Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Fabio Fazio lo conosciamo e amiamo tutti, ma sapete chi è sua moglie? Si tratta di una donna bellissima, da far invidia a tutti I due sono sposati da molti anni e il loro amore è più forte che mai, che fortuna per il conduttore. Ma chi è la donna? Con che tempo che fa Fabio Fazio ha conquistato il cuore degli italiani. La sua professionalità, unita alla semplicità con cui conduce la trasmissione e la bravura che possiede nell'intervistare gli ospiti, gli hanno permesso di raggiungere la cima del successo e di non schiodarsi da lì Insieme a Luciana Littizzetto il conduttore si occupa del programma ormai da 20 anni Un traguardo che pochi altri possono vantarsi di avere, Fazio è il conduttore perfetto per la trasmissione e la RAI ha saputo cogliere il suo talento fin da subito Ma Fazio è anche un marito fedele e amorevole, e sua moglie lo supporta sempre in ogni suo progetto Fabio Fazio ha una moglie bellissima.Quando si ama così tanto un personaggio dello spettacolo viene spontanea un po' di curiosità riguardo la sua vita privata, in particolare quella sentimentale Fazio ha sempre cercato di proteggere la sua famiglia dal gossip, evitando di creare scandali o finire sulle prime pagine dei giornali, ma alcune notizie sono sfuggite al suo controllo Nulla di scandalistico ovviamente, ma i fan hanno finalmente conosciuto sua moglie, una donna bellissima che in tanti gli invidiano. I due sono sposati da quasi 30 anni e non hanno la minima intenzione di lasciarsi, il loro rapporto vive di rispetto reciproco e tanto amore La coppia ha due figli, Michele, nato nel 2004, e Caterina, nata nel 2009 I due si sono sposati nel 1994 ma si frequentavano già da prima. Pare che la coppia non sia mai entrata in crisi e questo non fa altro che dimostrare che sono proprio due anime gemelle Ma chi è la moglie di Fabio Fazio? Si chiama Gioia Sellis, è originaria di Savona ed è nata nel 1968 Di lei sappiamo solo che viene da una famiglia benestante che suo padre, venuto a mancare nel 2008, era un medico e anche fondatore della Rarinant, la squadra di pallanuoto della sua città natale La donna non fa parte del mondo dello spettacolo, ma nonostante ciò supporta in tutto e per tutto il marito ed è ovviamente fiera dei suoi successi Non sappiamo di cosa si occupa esattamente nella vita, ma ciò che è certo è che è una donna bellissima ed è molto importante per Fazio, che ha più volte ribadito quanto il suo supporto sia stato fondamentale per la propria carriera Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video